questioni meridionali ottava edizione 2019 ci dicevano in questi giorni in bocca al lupo siamo finiti nella bocca di stefano per di un confine che separò madre e figlia e di elvis chiuso in casa da sei anni e di lei che non sa scegliere come me tra cantare e morire l'arte è questo cercare di nutrire di fare qualcosa che non è stato fatto prima non ci riusciamo sempre però voi facendo questa manifestazione io col libro alice eccetera quello che cerchiamo di fare è di non accettare lo spirito dei tempi siccome lo spirito di questi tempi non ama l'arte noi amiamo l'arte cerchiamo di fare amare un po l'altro di andare un po contro corrente perché citando la mia frase solo i pesci morti vanno con la corrente mi piace di questo mi piace mi piace